Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Gianni ma questa è la serie 3? Sì già ho dovuto fare una sorpresa a te e tutti i bambini che ci seguono e svelare in anteprima quello che accadrà a breve. Dimmi se questo non è ultra super mega alfa gormitico? Sì hai ragione è super mega alfa gormitico perché guarda ci sono i nuovi personaggi, i nuovi lord eppure c'è anche il guanto alfa. Il guanto alfa! E poi basta! Come basta? Ci sono tantissime cose! E' vero è vero ci sono tantissime cose però basta già da ogni cosa a suo tempo piano 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 tanto da adesso in poi sveleremo ai nostri amici delle novità che riguardano i nostri eroi ok? Iniziamo da una cosa dall'oggetto preferito delle nostre sfide i collezionabili! E' vero è vero è vero è vero! E' vero è vero! Wow Johnny ma sono bellissimi! No guarda Giada non ho parole sono super gormitici! Ma hai visto che colori che hanno? Sì ma guarda per esempio anche tu ce l'hai lì guarda Achilos con l'effetto traslucido guarda! Sembra quasi trasparente! Ma è troppo bello! Dai Johnny io non vedo l'ora di iniziare a fidarci! Eh aspetta Giada devo dirti una cosa! Che cosa? Qui c'è in gioco la fortuna! La fortuna? Sì perché se sei fortunata puoi trovare Lord Soul in versione d'oro! Ma è bellissimo! Io spero di essere tanto fortunata! E che se sei riuscita a trovarlo? Secondo me non lo troverai mai! Grazie come sei gentile! Ma adesso è arrivato il momento di sfidarti! Sono pronta! Con la nuova? Vediamo! Io scelgo questa! Vediamo un po' se questa nuova wave mi porterà fortuna! Come sempre d'altronde! Allora io ho trovato Gorok! Guarda che bello che è! Ok ci sta! Com'è cambiato? Guarda com'è cambiato invece Koga! Wow! Mamma mia! Ho cambiato anche colore! Bellissimo! Allora! 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 Mi sento già potentissimo! Inizio io nella card! Ho il numero 8! Ok! Va bene ci sta! Io ho il numero 7! Sotto al piede! Tu che numero hai? Il numero 2! Io ho il numero 7! Sì! 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 Mamma che sono fortissimo Giada! Hai barato! È vero! Impossibile! Sono alfa fortissimo! Vabbè la prossima volta sarò fortunata! Ma quale prossima volta? E vincerò! Lo sento! Ma quale prossima volta? Vabbè Giada! Quale? Oh adesso arriva la nostra parte preferita! Quella dove io poi divento tutto di fuoco! Gianni ma cosa stai facendo? Ecco ti Giada sei sempre in ritardo! Sto guardando il film dei Gormiti! Ma ancora! L'hai previsto centinaia di volte! Lo so! C'è memoria! Sì è vero ma tu non sai questo! È uscito il DVD dei Gormiti! Eh sì sì! Posso vedarlo? Posso vederlo? No! No me lo guardo tutto io! Dimmi dimmi quando è uscito! Allora la chiamata dei Lord sarà disponibile in tutte le librerie e nei migliori negozi di intrattenimento a partire da da ieri! Quindi è già uscito! Sì dal 10 settembre e presto lo troviamo anche in edicola in esclusiva con tv sorrisi e canzoni e donna moderna a partire dal 15 settembre! Ma che notizie fantastiche! Fammi vedere ti prego! Dai Giada tanto lo sai! Ci sono anche i contenuti extra ragazzi non potete assolutamente perderlo perché c'è un episodio inedito che ti mostrerà tantissime novità! E riguardante la nuova stagione che presto uscirà! Ok guarda questa scena Giada! Gianni però il film finiamo di vederlo dopo! No 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 appena iniziato! Eh ma abbiamo tantissime cose da fare! Dobbiamo vedere cosa sono scritte i nostri amici! Dopo lo vediamo! E adesso è arrivato il momento della bacheca gormitica! Eh sì Giada come vedi dalla nostra super lavagna abbiamo appese due foto! Sì due foto bellissime che ci ha mandato Marcello! Ok! Guarda guarda che collezione enorme che ha! È vero! Hai tantissimi gormiti! La torre meca! E lo zaino! Un sacco di token! E guarda un po' cosa è scritto sulla lavagna! Ciao Gianni e Giada da Marcello! Sei stato davvero carinissimo! E ti salutiamo anche noi! So che c'è anche una dedica adesso la leggo! Leggi leggi! Ciao Gianni e Giada io mi chiamo Marcello! E il mio fratellino Francesco mi rovina sempre tutto dei gormiti! Che birbante! Però a volte fa il bravo! A volte fa il bravo! A volte! Importante che a volte lo facciamo! Ebbè esatto! Vi voglio bene! Ciao da Marcello! Ti mandiamo un abbraccio gormitico e grazie tantissimo! Grazie 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 grazie! E se anche voi volete mandare i vostri disegni, le vostre foto, le vostre dediche inviatele a gormitishow.gormiti.com Noi le leggiamo e le mostriamo in puntata! Esatto Giada è finita questa puntata! Eh sì purtroppo è finita! Esatto cosa devono fare i nostri amici! Devono continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale di Youtube! Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like! Un saluto da Gianni e Giada! Ciao! Ciao!